SIGLA Quindi l'invasione in città era un diversito? Gli altri Goblin sono davvero intelligenti. SIGLA 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 REVERTI TRA LE ROVINE MI RICORDANO LE MIE ULTIME AVVENTURE CON NUCK Mmm, Doc impazzirebbe per questa roba. Grazie a tutti Ho notato che i Goblin hanno una specie di leader Sì, un tipo agguerrito Potrebbe essere la mente dietro al loro comportamento Cioè lui a risvegliare le armi antiche? Può darsi Sì 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 Cosa credi che stiano cercando i Goblin? Qualcosa che si trova qui ovviamente Ma cosa? Cristalli, guardiani, reperti Sì 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 Cos'è? È uno dei titani di cui ci ha parlato Ava. O meglio, è la sua testa. Wow, noi umani abbiamo sconfitto questi cosi. I Goblin ne costruirono una decina. Meno male. Ricordi la storia di Ava? Quei titani non possono essere affrontati direttamente. Quindi Mario si eliminò il centro di controllo con una squadra d'assalto. Sì, mi ricordo.